Questi progetti sono molto importanti perché attraverso questi progetti la Regione Lazio promuove le nuove forme di comunicazione che sono appunto i fumetti, la street art e proietta il modo di comunicare delle scuole del Lazio, di tutto il Lazio quindi non soltanto delle capitali ma anche delle province verso il terzo millennio. Tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero i fondi diretti e indiretti dell'Unione Europea quindi l'Unione Europea è una grande opportunità per la Regione Lazio, per tutte le scuole ma soprattutto per le studentesse e per gli studenti perché attraverso questi fondi noi possiamo promuovere questi progetti e attraverso proprio questi progetti le ragazze e i ragazzi possono tirar fuori tutto quello di bello che hanno dentro, le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Stiamo lavorando anche per legare queste nuove forme di comunicazione al sociale, a temi del sociale è questo l'obiettivo della Regione Lazio e questi fondi sono fondamentali. Grazie 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 a tutti.